L'incontro tra l'assessore Trevigiano e le attività produttive Paolo Camolei e i rappresentanti degli esercenti delle sale giochi ha suscitato polemiche per la proposta di concedere deroghe al regolamento sugli orari di apertura in cambio della partecipazione degli operatori a corsi di formazione contro le ludopatie. Dopo il biasimo del consigliere regionale Riccardo Barbisan e le perplessità del presidente di ConfCommercio Renato Salvadori. Ma noi ci siamo su questo tema, su quello dell'alcol, su quello dell'alcol legato alla maternità, ci siamo su tutti questi temi e siamo stanchi di esserci, perché siamo stanchi di una serie di deliche che ci vengono date in bianco rispetto a responsabilità che non sono nostre. Il presidente dei commercianti rileva l'ipocrisia di una mano pubblica che se da un lato è pronta a puntare il dito contro gli esercenti che tengono le macchinette nei loro locali dall'altro è la prima beneficiaria dei proventi del gioco d'azzardo. La ludopatia è una piaga da combattere, puntualizza e come ConfCommercio abbiamo in piedi diversi progetti di contrasto ma è ora di riportare le responsabilità in capo a chi le merita. È inutile che venga ai gestori data la responsabilità della gestione della ludopatia o della maggior responsabilità nel momento in cui il primo biscaziere è lo Stato. Occorre che ci mettiamo d'accordo sulla causa e l'effetto rispetto ad un tema, quello delle ludopatie che parte da distante e va da tutt'altra parte.